Gli occhiali da vista, gli occhiali da vista dovrebbero essere del Valentino, del Valentino Lugiero, abbiamo uno, due, tre cartoni più due cassette con una marijuana già fatta a cime, questi bidoni qua sono vuoti, ma questa è l'altra marijuana ancora Si sta scaricando la batteria, santo Dio, mannaccia, la miseria Questo dovrebbe essere luogo di presumibile essiccamento, con tutti i fili da un lato e dal lato del muro Sopra e sotto, c'è della marijuana a terra, essiccata Scorcio bianco Cartone come quelli di giù Terrazzino Dove presumibilmente l'hanno fatta essiccare al sole Ci sono dei residui Altro luogo con marijuana per terra Gli steli seccati della marijuana Altra marijuana per terra Cassette di palistirolo Busta argentata Ho finito, aspetta un attimo Possiamo spostare Aspetta Quella è la casa dove stanno tutta la marijuana già confezionata Ma chi sta lì in mezzo? E questo è il casolario E questo è il casolario